Previsioni meteo di giovedì 15 agosto Al nord, prevalenza di bel tempo su coste e pianure, variabilità fra Alpi e Prealpi Al centro e al sud, cieli da poco a parzialmente nuvolosi con possibilità di qualche locale fenomeno in Appennino Pioggia anche su basso versante tirrenico Venti moderati nord-orientali Mari da poco mossi a mossi Temperature stabili o in lieve rialzo